Questo è il momento dell'anno in cui bisogna fare la spesa creativa Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Come state ragazzi? Oggi un video un po' diverso Ho pensato, proprio perché lo sto facendo anch'io, di condividere con voi una delle mie abitudini annuali Questo è il momento dell'anno in cui meglio e più di tutti gli altri momenti dell'anno si possono raccogliere materiali per la creatività È un momento molto importante perché la natura ci riserva grandi potenzialità, low cost e quindi possiamo strutturare il nostro studio creativo, il nostro laboratorio in maniera tale da avere poi il materiale durante l'anno Innanzitutto voglio aprire questo video con una grande novità Il ricettario dell'arte Voi direte Ombretta ma è da ottobre scorso che ne parli, non è più una novità E invece c'è una grande novità ragazzi Vi devo un grande grazie Perché il ricettario dell'arte sta per andare in ristampa Le copie sono quasi tutte esaurite, quindi la casa editrice Gribaudo ha deciso di ristamparlo perché è un libro che è andato bene e di questo devo ringraziare solo voi E soprattutto sono felice per le tante tante recensioni che avete lasciato sui vari siti commentando il mio libro come un libro valido Un libro in cui c'è quello che vi ho promesso ci dovesse essere Vi lascio qui giù in info box dove c'è la scrittina a mostra alto il link per l'acquisto online ma lo trovate in tutte le librerie d'Italia e molto presto le scorte saranno rimpinguate perché appunto arriva la ristampa Comunque quando c'è un libro è sempre bellissimo avere la prima stampa anche per una questione di collezionismo quindi se sei un affezionato di arte per te corri anche ad accaparrarti le ultime copie della prima edizione della prima stampa Poi se non dovesse arrivarci niente paura perché ci sarà anche la ristampa sarà esattamente uguale non ho apportato nessuna modifica perché quando ho fatto il libro l'ho fatto in maniera che dal mio punto di vista fosse perfetto per come lo volevo io è un libro prezioso ragazzi è un libro prezioso per me è un libro che viene fuori da anni e da anni di esperienza sul campo qua dentro ci sono tantissime ricette tutte ricette che ho fatto grammo per grammo proprio le ho fatte grammo per grammo le ho studiate grammo per grammo le ho testate grammo per grammo insomma sono tutte ricette nate dall'esigenza di avere una ricetta per ogni singolo materiale dell'arte quindi vi aspetto tutti in libreria e se non lo trovate in libreria vi lascio qui giù i link per l'acquisto grazie a tutti coloro che lo hanno acquistato per avermi permesso di realizzare questo sogno e soprattutto per avermi permesso di essere una scrittrice che va in ristampa che è orgoglio voi non potete immaginare l'orgoglio vi dicevo all'inizio del video quindi che è il momento di fare la spesa creativa nel vostro carrello quindi potete mettere come prima cosa il ricettario dell'arte perché vi servirà per poi creare con tutte le cose che vi sto per elencare questo è il momento ideale per raccogliere o per recuperare più che raccogliere qualche conchiglia le conchiglie sono un argomento assai controverso le vendono durante tutto il corso dell'anno ma acquistare le conchiglie a meno che non ne vogliate un tipo particolare e allora vabbè quelle magari le vendono in negozi che fanno decorazioni per le candele nei negozi tipo la coin in vari negozi cinesi le trovate sempre ma ci sono anche conchiglie assolutamente gratuite che potrete facilmente ottenere rivolgendovi al vostro pescivendolo di fiducia i pescivendoli molto spesso vendono i frutti di mare e molto spesso li vendono a vassoi già aperti pronti per essere degustati anche i ristoranti fanno questa cosa quindi magari avete un ristorante sotto casa li puliscono quindi buttano via una parte del frutto di mare quello che non alloggia il mollusco bene chiedete se ve li mettono da parte raccoglieteli dopodiché bolliteli due volte di seguito con acqua e limone quindi sversateli nel lavello e lavateli col sapone li mettete tutti a mollo col sapone dei piatti e li lavate a uno a uno quindi li fate asciugare adesso che c'è caldo come potete vedere anche dal fatto che io sudi in balcone in mezza giornata saranno puliti sgrassati in odore pronti per essere lavorati potete conservare anche quelli di quando vi fate una bella mangiata con i fondi di pasta e frutti di mare insomma trattenete tutto quello che dal mare è possibile trattenere sarebbe un vero peccato fare finire le conchiglie nella spazzatura e non adoperarle per creare delle bellissime cose creative come quelle che vi ho fatto vedere che vi sto facendo vedere nel corso degli anni all'interno della programmazione di arte per te questo è anche il periodo per conservare le lattine bibite, coca cola, le lattine di tonno quanto tonno state mangiando in questo periodo insalate di riso i tappi, i tappi dei barattoli in questo periodo si fa tanto uso molto spesso di conserve i tappi dei sott'olio, dei sott'aceto delle preparazioni per le insalate di riso piuttosto che le lattine di tonno che sono basse, rotonde servono per fare tantissime cose piuttosto che le linguette delle lattine le lattine di coca cola le lattine di bibite bene, fatevi una mensolina nel vostro garage dove terrete tutte queste cose pronte all'uso quindi le mettete in lavastroviglie le lavate, le conservate e all'occorrenza le trovate perché poi quando vi servono non le trovate è meglio averle lì da parte e poi a proposito di natura la natura è questo il momento in cui andare a raccogliere senza depredare la nostra natura in questo periodo tutto quello che la natura ci mette a disposizione è bello secco asciutto facile da conservare sarà molto più semplice prendere qualche pigna vuota dei semi perché oramai sarà secca sotto il caldo torrido che c'è stato scrollatele sempre bene prima di prenderle in modo che tutti i semi contenuti all'interno cadano e portatevi a casa un po' di pigne che servono per i lavoretti di Natale serviranno in questo periodo potete prendere anche qualche rametto che c'è per terra magari spostato dai venti essiccato con l'arsura dell'estate non staccate le cose dagli alberi raccogliete quello che c'è ai piedi degli alberi perché sono cadute le foglie magari e sono caduti i rametti le foglie prendete qualche foglia qualche foglia particolare che è visibile soltanto in estate perché magari non viene da un sempreverde prendetela e fatelo essiccare sono tutti i materiali che poi potrete usare più in là in autunno e in inverno qualche fiore particolare coglietelo e mettetelo essiccare schiacciato sotto pressa all'interno di libri sono tutte cose che potremo usare con la creatività più avanti questo è il periodo per conservare gli stecchi dei gelati cremini magnum ghiaccioli fior di fragola non vedeteli soltanto come un momento goloso ma anche come una possibilità creativa prendete tutti gli stecchi slinguazzati anche dai vostri amici metteteli in lavastoviglie all'interno di un bicchiere e fateli andare dopodiché saranno super puliti ne fate essiccare sotto il sole cosciente rovente di quest'estate e avrete un sacco di legnetti per la creatività quest'inverno approfittate quanti ne avete buttati dite la verità quanti ne avete buttati le coppette dei gelati conservatele anche quelle possono servire innanzitutto come contenitori per sciacquare i pennelli per mettere i colori per miscelare i colori ma anche come elementi di creatività le coppette tipo quelle della coppa del nonno le coppette di plastica se ancora ne fanno se come me siete delle golosone e vi piace il cocco in gelato quello che proprio viene contenuto nel mezzo cocco mangiatelo ma soprattutto conservate i mezzi cocchi li potete conservare perché innanzitutto così come sono potete usarli come posa cenere per i vostri amici quando vengono a casa vostra in estate è un modo carino per far spegnere le sigarette e ditegli di non fumare ma possono diventare degli svuotatasche molto carini impreziosendoli vi farò vedere molto presto come e soprattutto possono essere dei veramente validi compendi per la creatività immaginate un presepe in cocco non è troppo bello ed è anche ben contestualizzato se uno ci pensa bene insomma cercate di trattenere il più possibile sono tante le cose ma poi se ben organizzate in una mensola e in un secchiello tipo porto ombrelli per i rametti e una mensola per tutte queste cose non occupano poi tantissimo spazio e un'ultima cosa sempre dal punto di vista alimentare che trovate più che altro credo penso che adesso lo facciano sempre una volta usciva solo d'estate il Kinder Joy mi dispiace dare una marca ce ne sono all'MD anche di un'altra marca questi ovetti che non sono più ovetti ma che hanno l'involucro di plastica a noi interessa l'involucro e ci interesserà verso Pasqua ma siccome poi escono di produzione perché prende il sopravvento l'ovetto quello di cioccolato giustamente prendetene adesso un po' perché sono delle splendide formine per fare le uova di gesso quindi metteteli da parte e poi le tireremo fuori al momento opportuno bene spero di avervi dato tante idee spero che vi sia stato utile questo video spero che siate tutti in vacanza in vacanza avrete sicuramente comprato tutti uno spazzolino per partire perché magari a casa avete quell'elettrico e non vi va di portarvi quell'elettrico in vacanza e vi siete presi uno spazzolino per i denti bene non buttatelo come me dopo averlo usato per le vacanze lavatelo bene disinfettatelo bene e riponetelo tra i pennelli per la creatività perché sono fantastici per dare l'effetto schizzato alle vostre pitture guardate il mondo non per come ci hanno insegnato a guardarlo ma per le sue potenzialità nascoste e ognuno di noi può trovare grandi potenzialità nel mondo e negli oggetti che ci circondano guardate il mondo con occhio creativo e troverete sempre qualcosa per creare e per divertirvi bene io vi mando un grande bacio spero che questo video vi sia stato utile ragazzi prepariamo le scorte perché prestissimo io non ho mai finito ma prestissimo tornerete anche voi a sedervi alle vostre scrivanie ad occupare i lunghi pomeriggi invernali con qualcosa di creativo dal canto mio io vi continuo a fare compagnia per tutta l'estate spero che i video che vi sto mandando in questo periodo che mi sto divertendo tantissimo a fare piacciono anche a voi lasciatemelo scritto e lasciatemi un pollice in su se questo video vi è piaciuto io vi do appuntamento sempre qua per un prossimo video creativo da Ombretta e da Arte per te è tutto buona estate grazie a tutti quelli che hanno comprati il ricettario dell'arte ci diamo sempre qui appuntamento al prossimo video creativo ciao ciao